signori non c'è due senza commedia spagnola del 2021 consigliatami da loredana carina la trovate su netflix voto 7 una commedia che parla di sesso in maniera aperta senza volgarità senza troppe senza troppi giri di parole carina non ci sono non ci sono nudi o cose strane e c'è un finale da urlo proprio proprio da urlo e basta così un saluto a tutti se volete iscrivetevi al canale e se volete lasciate un like ciao ciao